Come ti chiami? Pasquale Volpe. Quanti anni hai? 42. Dove vivi? A San Mauro Cilento, Salerno. Che cosa hai mangiato a colazione? Delle fitte biscottate con della marmellata e del miele che producono le mie api. Cosa vedi fuori dalla tua finestra? Vedo le colline del nostro bel Cilento che diradano verso il mare. Mostrami il tuo miglior sorriso. Biologico, integrato o tradizionale? Integrato. Hai animali? Sì. Quali? Le api innanzitutto, conigli, galline, maiali, gatti, cani. Pecora, mucca o maiale? Mucca. Imite il suo verso? Mu. Dove vai in vacanza? Mare, campagna o montagna? Preferibilmente al mare.